Bene carissimi amici, una buona serata a tutti voi, ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Siamo nel dopo estrazione per commentare il quadro estrazionale di giovedì 9 marzo. Bene, i miei metodi vanno alla grande, vanno alla grandissima, pagano e strapagano. Metodi pazzeschi, metodi che sono sempre validi, hanno sempre pagato e continuano a pagare. Ambata Perpetua, metodo seguitissimo da tantissimi di voi, questa sera ha pagato un bellissimo 31 sulla ruota di Genova anche in prima posizione. Stravinto, stravinto da tutti voi. Questo è il primo cedolino che mi è arrivato ma so che me ne arriveranno anche altri perché tantissimi di voi hanno vinto questo 31 in prima posizione. Non solo come Ambata ma anche come Stratto Determinato. Sono contento che seguite alla lettera le mie indicazioni di gioco, sia per chi è in mano al metodo completo, ma sia anche per chi ha preso solo l'Ambata perché l'ho regalata nel diario del Mister. Un diario in cui io vado a mettervi le previsioni dei metodi man mano che li vado a presentare o ripresentare. Bene, abbiamo vinto anche da Ambata Perpetua l'Ambata Perpetua, so che molti lo hanno vinto perché consiglio nel metodo un Ambo Jolly proprio con il 90. Quindi una grande vincita dal metodo mensile Ambata Perpetua che vi consiglio di acquisire in versione completa. Chi vuole i miei metodi nella versione completa Ambo Secco può contattarmi via Whatsapp come sempre 348 75 47 715. Il numero lo trovate anche in descrizione. Quindi mi raccomando. Ma che bella vincita ha ottenuto il metodo Ambata Turbo. Questo è un metodo che io vi ho straconsigliato che dovete assolutamente prendere nella versione completa perché è pazzesco. E anche questa previsione ve l'ho inserita nel diario del mister. Nell'arco di tre colpi cosa ha combinato? Al primo colpo vi ricordo pagò il 38 sulla ruota di Napoli. Poi che cos'è successo? Al secondo colpo ha pagato l'83 su Napoli in prima posizione. Questa previsione è scritta nero su bianco. Tutto in chiaro, tutto documentato. Vincite vere, vincite reali. Al terzo colpo guardate cosa ha combinato. Doppi Ambata 38 a Bari e l'83 a Napoli in seconda posizione. Qui ha pagato anche Lambo perché il metodo in mano lo può verificare. Qui ha dato anche Lambo secco. Che metodo è questo cari amici? Ambata Turbo questo è un altro metodo pazzesco. Quindi nel diario del mister già hanno pagato Ambata Turbo alla grande e Ambata Perpetua. Vi ho inserito anche Venezia da sbanco e Mila Napoli. Quindi mi raccomando a questi due metodi. Però siamo andati già alla grandissima. Perché sia Ambata Perpetua e sia Ambata Turbo nelle versioni complete hanno dato Lambo a ruota. Quindi questa è la forza dei miei elaborati cari amici. Da acquisire in versione completa. Sapete benissimo che sto facendo anche delle belle promozioni per avere pacchetti di metodi diciamo molto vantaggiosi. Quindi contattatemi via Whatsapp mi raccomando. In questo quadestrazionale vediamo il 90 Genova. Che era un 90 che io avevo il mese scorso con il mio 90 segreto. E che comunque è un 90 che sta recuperando. Perché Genova era una ruota forte. Quindi diciamo che stanno rientrando tutti quei 90 che dovevano uscire nel mese di febbraio. E quando c'è stato quello stop del 90 adesso il 90 è in grande recupero. Quindi nel mese di marzo andrà ancora a pagare al grande. Quindi mi raccomando alle prossime estrazioni perché vedremo ancora il 90 sortire su più ruote. Il mio 90 segreto a Cagliari, Firenze e Roma rimangono tre ruote micidiali anche perché questa sera Roma ci dà anche un ulteriore segnale con l'89 che lo chiama alla grande. E la distanza 2 con l'87, 89 e 87. Quindi attenzione a Firenze abbiamo questo doppio zerato 10, 60 che ce lo porta alla grande. Estrazione scorsa avevamo l'84 a Roma con la somma 90, 84 e 6 e con la cadenza 6 proprio 6 e 16. C'era anche il 45 quindi Firenze e Roma diventano delle ruote molto interessanti. Guardate anche questi due zerati uniti 10 e 40 si ripresenta a Firenze 10 e 60. Quindi state molto attenti sono due ruote molto forti. Questo triangolo che si è formato alle ruote di Cagliari e Firenze ci conferma un grande 90. A parte il 54 di figura 9 sulla ruota di Cagliari abbiamo un triangolo di cadenza 0. E il mio metodo cadenza 0 ci porta proprio Cagliari e Firenze. Guardate 30 e 10 abbiamo zerati sotto, prima e terza posizione abbiamo il 90. Quindi a conferma ancora del mio 90 segreto. In diagonale abbiamo la somma 90, 30, 60. Cagliari e Firenze, meravigliosa. Quindi mi raccomando perché Cagliari e Firenze due ruote pazzesche. Gemello in terza posizione dice sì al 90. Quindi Cagliari-Palermo. Palermo porta addirittura un trittico di cadenza 9, 29, 79, 69. E 67, 69 la distanza 2. Quindi anche questo qua l'estrazione ci dà grandi segnali per quanto riguarda il 90. Napoli 84, Spie 90. Quindi Bari-Napoli, 90 fortissimo. 66, 88 Bari, doppio gemello unito. Anche qui abbiamo segnali per il 90. Quindi abbiamo Bari, abbiamo Napoli, abbiamo Cagliari, abbiamo Firenze, abbiamo Roma, abbiamo Torino. Mi raccomando il 90 arriverà su diverse ruote. Le tre ruote chiaramente sono Cagliari-Firenze-Roma e quelle sono. E abbiamo Roma-Torino per quanto riguarda la mia cadenza 0. Quindi per restringere il campo. Però arriverà su diverse ruote. Vediamo ancora qualche segnale. Bello anche l'ho zerato su Genova 80-90. Non è detto che ritorna ancora su Genova. La mia tabella numeretti. Cosa sta combinando questo mese? 5, ancora Venezia in prima posizione. Estrazione scorsa. Guardate come i numeri non hanno memoria. No? Perché sento ancora dire. Eh ma il 5 è già uscito. Figurati se esce ancora. Eccolo qua. In due estrazioni consecutive. Stessa posizione. Estrazione scorsa. Vi ricordo. Tabella numeretti a 25, 40. In questa estrazione il 5 è ancora in posizione. Qualcosa di pazzesco. Che metodo cari amici. Che metodo. Avete ancora poche copie disponibili per il metodo tabella numeretti. Mi raccomando a non perderlo. Perché è un metodo da paura. Cosa ha combinato questo mese? Cosa ha combinato? E cosa combinerà ancora? Perché andiamo ancora avanti con la convergenza di questo 5. Che sta sbancando. L'abbiamo vinto a Venezia in posizione. L'abbiamo vinto di nuovo a Venezia in posizione il 7 marzo. Col 40. L'abbiamo vinto a Roma. 5 e 40. Anche qui in posizione. Che cosa ha combinato questo mese? Questi sono i miei metodi cari amici. Questa è la forza dei miei elaborati. Mettetevelo in testa. Queste sono le vincite che andiamo ad ottenere. Mi raccomando. Apprendete i miei metodi. Vediamo ancora su quale estrazionale. Cosa possiamo dire? Questa formazione di Zerati. Secondo me è la più bella in assoluto su Cagliari Firenze. Molto molto bella. Qui arriverà un grande 90. Seguitemi con il 90 segreto. Perché arriverà un bel 90. Quindi mi raccomando. Cagliari. Firenze. E Roma. Mi raccomando. Chiaramente. Anche Amba sotto controllo. Super Amba oro. Sono tutte previsioni in modalità vincita venuta. Che potete acquisire e contattando via Whatsapp. E sapete benissimo che chi mi segue ogni mese con costanza e con fiducia. Poi va a raccogliere i risultati. Come è successo con il doppio Amba della tabella numeretti. Come è successo il mese scorso con Amba sotto controllo. E così via. Ci sono. Arrivano. E ci sono. Una valanga di vincite. Quindi. Attenzione. Vediamo. Ancora un po' anche Torino. Guardate. 27-29. Distanza 2. Con l'ambo diametrale in decina. 24-29. Il 5 di Venezia stesso. Chiama il 90. E' uscito in due strazioni consecutive. Accompagnato dal 48. Che è un'altra spia. Nazionale. Ce lo porta anche. Figura 9-81. Con Torino. C'è la figura 9-81. Quindi anche qui. Bellissime situazioni. Vedremo le strazioni di sabato. 11-11. Cosa ci porterà. Sapete che le strazioni del sabato molto spesso è prediletta al 90 per la sortita. Ma come vedete sta. Il 90 sta arrivando. Perché ha pagato Genova. Napoli. E' uscito di nuovo a Genova. Quindi ha recuperato quelle ruote che. E' su quelle di quali doveva sortire. E adesso man mano si andrà a sfaldare. Sulle altre ruote forti. Quindi c'è Bari. Ci sarà Cagliari. Ci sarà Firenze. Ci sarà Roma. Ci sarà Torino. Quindi ne vedremo delle belle. Bello quest'anno consecutivo. Genova 3-4. Vediamo ancora qualcosa. Che possiamo commentare. Vediamo un po'. Se abbiamo qualche altra formazione particolare. Direi che queste sono le situazioni più eclatanti. E vi ho commentato anche qualche vincita che abbiamo ottenuto. Anche sul nazionale abbiamo la distanza 1 che annuncia il 90-30-31. Anche questa è molto bella. Tripla cadenza 1 Torino-Venezia nazionale 81-41. Nell'81 ripetuto. In orizzontale distanza 1 81-82 Roma-Torino. Questo è un altro grande segnale del 90. La figura 9 su Torino 27-81. Prima e quinta posizione. Anche questa molto bella. Ci sono tantissimi tantissimi segnali. Quindi vedremo ancora tanti 90 andare a sortire. Vi ricordo dai miei metodi. Milan-Napoli 31 secco. Anche terza e quarta posizione. Torino-Venezia. Venezia da sbanco. Ambata secca 13 anche prima e quinta posizione. Queste sono le previsioni rimaste in gioco. Ma possiamo comunque continuare. Sia Ambata perpetua con il 31 a Genova. Anche prima e quinta posizione. E anche Ambata turbo. Ambata e secca 38-83. Bari-Napoli prima e seconda posizione. Anche se Ambata turbo ha ampiamente pagato. Ma essendo l'inizio del mese può essere che continua a sfaldarsi. Ambata turbo è andata fortissimo. Nell'arco di tre colpi ha combinato il finimondo. Quindi mi raccomando che qual è un metodo veramente forte. Non ricordo a febbraio cosa ha dato. Ma se noi andiamo ad avvicinare l'unità del primo di Napoli. La decina del quinto di Napoli. Andavamo ad ottenere 41. Bene. Avevamo 14-41 Bari-Napoli. Non ricordo se l'aveva dato subito. Nei primi colpi. Guardate era uscito il 41 sulla ruota di Napoli. Anche qui aveva dato l'Ambosecco. Grandissimo metodo cari amici. Andiamo a gennaio. Ambata turbo portava il 6. E' 60. Vediamo cos'era successo. Sulle ruote di Bari-Napoli. L'avevo visto già in data di estrazione. Se non sbaglio vediamo. C'era il 60 effettivamente. Quindi poteva uscire anche il 61. Vediamo se questo 6 e 60 avevano pagato a gennaio. Vediamo un po'. A gennaio mi sembra che non ci fosse nulla. Però poi a febbraio dato il 41 con l'Ambosecco e marzo come vedete ha recuperato alla grande. Quindi quando nei miei metodi sono dei negativi, quei rari negativi, poi vedete che si va a recupero. Cosa ha combinato marzo con Ambata turbo? Ha combinato il macello perché è uscito prima il 38 a Napoli, poi è uscito l'83 a Napoli in posizione, poi è uscito doppia vincita. 38-83 e l'83 in seconda posizione con l'Ambo. Quindi questo vi voglio far capire che seguire i metodi con costanza e con fiducia è la cosa importante. Perché molti cosa succede? Che arriva un negativo e si fermano. Arrivano due negativi e si fermano. Poi cosa succede? Che arriva l'altro mese e arrivano doppie e triple vincite. Il metodo va seguito con costanza e con fiducia, qualsiasi metodo. Perché i miei metodi funzionano in questa maniera. Che anche quando capita il negativo, perché il negativo capita con qualsiasi metodo, anche con il migliore, poi si va a recuperare. Quindi mi raccomando. Ci siamo appuntamento all'estrazione di sabato, 11 marzo, e vedremo cosa andrà a succedere. Per adesso un saluto a tutti i Mister Sbancorotto.